Gian Pietro ci sono delle novità per quanto riguarda l'ex autovelox di via di sotto a Pescara e tra l'altro voi proprio nelle ultime ore avete presentato una richiesta scritta al Comune di Pescara alla Giunta su questa vicenda. Sì perché vi ho chiesto che ci sia una risposta scritta questa volta e non una nota stampa soltanto perché sappiamo che molte delle multe emesse, circa 22.000 soltanto in via di sotto, sono state annullate con sentenze del legge di pace in quanto mancava l'omologazione. Ora abbiamo visto che il contratto che il Comune ha firmato con la ditta che ha nonneggiato questo autovelox prevedeva per espressa richiesta anche del Comune che il contratto sarebbe stato risolto, quindi annullato, qualora mancasse l'omologazione. Vuol dire che è un tema rilevante e questa omologazione manca ancora oggi nei giudizi che vengono fatti appunto in questi mesi presso i giudizi di pace. Allora chiediamo questa volta per iscritto che il Comune liberi la città da questa grande incognita e dica se il mezzo era omologato o non era omologato. Anche perché sarebbe molto paradossale se il Comune ritenesse per i propri interessi che l'omologazione è rilevante mentre chiede ai cittadini di andare in tribunale per dimostrare la stessa cosa. A questo punto crediamo che sia giusto che il Comune per iscritto risponde che la Giunta risponda per iscritto a questa interazione che come gruppi consigliari del Centro Sinistra abbiamo tutti insieme appunto presentato e ci dica effettivamente se c'è o non c'è questa omologazione e se non c'è perché non ha risolto il contratto come ha scritto appunto all'articolo 14 del capitolato di gara. Sì continuiamo a seguire questa vicenda perché sono in realtà degli strascichi ovvero le case aperte sia con giugia di pace sia con alcuni in tribunale perché laddove c'è stata la sentenza in cui il cittadino ha avuto l'annullamento delle sanzioni il Comune ha inviato in appello un comunicato ai cittadini di convocazione presso il tribunale. Dall'altra parte ci stanno anche persone che ci stanno supportando sulla parte tecnica tra cui appunto il signor Carlo Spaziani che è assistito insieme ad Antonio Blasioli dando anche altri supporti di tipo tecnico per capire un po' questa questione e sul fatto di omologazione non solo c'è questo aspetto relativo alla contrattualistica ma c'è anche un aspetto specifico per cui in mezzo autovelox se approvato necessita una pattuglia in sito di polizia se solo omologato sarebbe autorizzato a fare rilevazioni in maniera automatica quindi la dimostrazione di questa omologazione chiarirebbe sicuramente tanti altri dubbi di tipo anche tecnico.